Suora, ora si può parlare, eh? C'è il video. Ah, si può parlare. Hai il ragazzo del collegio, dai. No, ti ho già toccato tante parole. No, no, un'altra volta, dai. Ora c'è il video, proprio, che lei si vede, dai. Un saluto ai ragazzi e al Rosmini. Ancora devo dirvi che vi voglio molto bene, perché questa è la parola più bella che posso dirvi, l'espressione del cuore che vi ricordo dopo tanti anni. Prego molto per voi, tutti i giorni, uno a uno, i 45, di quarta, quinta, sesta, sezione A, anni 80 e qualcosa. Mi raccomando, insegnate bene ai vostri figli. So che qualcuno è anche nonno, come la gioia, e nonna e altri. E Lorenzo, poi le darò la pacella, quando è il suo tempo. Quando poi mi dicono che prende il 20 e scrive su tutti i quaderni, Lorenzo Bonassisi prende il 20. Silvana. Silvana, il particolare Silvana, del sabio, del sabio, del sabio. A tutti, a tutti, a Maria, a Maria, a Maria. A Giuseppe, la voglia, a tutti i miei amici, a tutti i suoi, i suoi, i suoi, i suoi, i suoi runni. Ciao. Ciao. Ciao.